I carabinieri forestali di Locri, con il supporto dei colleghi di Roccella Ionica e Caulonia, hanno scoperto un frantoio oleare operante a Locri che scaricava senza alcun trattamento le acque reflue di lavorazione direttamente nell'alveo della fiuma Ragerace. I carabinieri hanno denunciato il titolare dell'impianto, un 37enne già noto alle forze dell'ordine, per scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione. I militari, durante alcuni controlli condotti nel frantoio, hanno notato delle condutture collegate ad un pozzetto di scarico di acque bianche, che all'ispezione esalava l'odore tipico delle acque di vegetazione, sottoprodotto fortemente inquinante del processo di molitura delle olive. Le condutture, inoltre, sboccavano direttamente oltre il muro d'argine della fiumara, sversando i liquami prodotti dalla lavorazione nell'alveo del corso d'acqua. Le condotte sono state sottoposte a sequestro.